Il Veneto non è un paese, è una regione di devastatori ma invece di gente molto attenta all'ambiente. Sì, buongiorno. Mi permetto di dire questo, visto considerato che quando leggo che c'è qualche premio Nobel della situazione che dice che la frana accade a causa della cementificazione, dico taccia, tenga chiusa la bocca perché non c'entra nulla la cementificazione. Stiamo parlando di frane in alta quota dove non c'è neanche un minimo rifugio, peraltro. Per cui stiamo parlando semplicemente di una natura che naturalmente si ribella e noi dobbiamo cercare non di vincere contro la natura ma di attutire l'impatto di questi movimenti. Benissimo, però a me è sembrato che durante la conferenza stampa un minimo di autocritica c'è stata, nel senso che il futuro, lei ha detto, non è più l'asfalto o non deve essere più l'asfalto ma deve essere invece la protezione del territorio. Quindi questo che cosa significa? Che in passato magari si è puntato un po' troppo sul sviluppo turistico, sulla viabilità? Ah sai, questo è un aspetto culturale. Negli anni noi amministratori siamo sempre stati tutti interessati e sollecitati a realizzare viabilità. Il Veneto ha fatto questa scelta che nelle grandi nuove infrastrutture saranno a tutela dal dissesto. L'abbiamo fatto in maniera assolutamente evidente, ad esempio presentando da parte del sottoscritto, già un mese fa un progetto di legge per il consumo del territorio del suolo zero e che vuol dire accubatura zero, tu distruggi, aggredisci quello che c'è per costruire del nuovo e non vai a creare volumetria nuova. Però dico anche che se questa sfida fosse accolta a livello nazionale potremmo veramente fare un bel lavoro. Non dimentichiamo che c'è il grande tema delle vittime ogni anno ma c'è anche il grande tema dei costi di questo dissesto che vale circa 2 miliardi all'anno. A proposito di cose, lei ha detto che qui non ci vogliono milioni di parole ma milioni di euro. Ieri c'è stata questa riunione con il ministro Galletti, oggi c'è una riunione del Consiglio dei Ministri dove dovrebbe essere approvato uno stanziamento, quindi tutto a posto, nessun problema con Galletti. Io penso che sia doveroso rispetto nei confronti di quei tre cittadini che hanno perso la vita, quindi io di polemiche in contesti come questi non ne voglio fare. Dico semplicemente che se arriveranno 150 milioni di euro su 600 al Veneto è la dimostrazione che noi in questi anni abbiamo lavorato bene, a dispetto di tutti coloro che dicevano che noi non stavamo facendo nulla. Perché abbiamo avuto 150 milioni? Perché abbiamo cantieri pronti, perché abbiamo preparato i cantieri, abbiamo preparato la culla per il neonato e il neonato sono questi 150 milioni di euro. Lei oggi ha spiegato che ci sarà questa dichiarazione del Stato di emergenza prima da parte sua, del Governatore della Regione Veneto, che è un presupposto per averla poi dal Governo centrale e per unire tutte queste frane. Lei ha usato questa espressione, tutte le frane hanno la stessa dignità, non è soltanto questa che deve essere messa a posto. Sì, anche perché se noi consideriamo la legge nazionale sul Stato di emergenza si va al rischio che qualche frana resti fuori perché non ha le caratteristiche dell'evento catastrofale di Valenza nazionale. È accaduto con il refrontolo e i morti del mulinetto, allora il lio decise di mettere assieme più eventi, qualcuno non capì questa filosofia, vedo che oggi l'hanno capita tutti, infatti su San Vito, Cancia, Peaio e molte altre frane si farà così, si farà con quel sistema di refrontolo che da altri è stato bocciato.